Salvo Mangiafico 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 Mariano Anducar si dice, Mariano Anducar. Gli chiediamo un difensore. Se ti dico Valerio, Pablo, Sebastian. Uno, no, ti. Uno, Valerio, Pablo, Sebastian, nome di battesimo. Al? A Cogami. Al? A Pacino. Al? A Baro. Al V... A Baro Vitale. Pierino. Al Varez. Al Varez, disgraziato. No, ma lì sa. Lì sa. Il capitano. Il capitano. Dai, dai, dai. Il capitano è facile, è facile. Ti dico il cognome. Silvestre. Pino. Pino Silvestre. Chi è? Deodorante, Silvestre? Stallone. Silvestre? Poi altro Silvestre, ho correndo campo. Mattias, Silvestre. Basta. Andiamo al centrocampo. Sì. Fermo, state. Fermo, non fai lo spiritoso. Fai lo spiritoso. Centrocampo, te ne chiedo uno di italiano, che è facile. Simone. A Boccaglio. Perché io a Boccaglio? Esiste giocature che si chiama Boccaglio? Ciglia. Simone. Masculina. Stumbo. Pesce. Pesce. Ebbè, sempre ramare, non è che la cancia cosa. Guarda, l'ultimo, 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 Maxi, Lopez, questo è facile. Ma che cosa ha detto anche Megalo? Megalo, me, calciami Megalopo, lo sapevo. Posso fare un bosporo di seconda mano, ma state buono. Megalo, Maxi. Guarda, questo lo sa, lo sa, perché se non sei questo lo rimandiamo a settembre. Vai. Allora, questo è facile, perché chi do... Chi è cataratti? E come io? Uno chi è cataratti, io con pallone, e quello... Alla prossima volta, eh, alla prossima. Diego Strano e Salvo D'Antonio. Facciamo un applauso a loro, due di coppe. Buonanotte, domenica prossima. Ciao, ciao.